Aveva 83 anni William Salice. Da tempo era ricoverato in clinica a Pavia. Le sue condizioni si erano aggravate nelle scorse settimane quando è stato colpito da ictus. Ci ha lasciati quando mancavano ormai solo poche ore all'inizio del nuovo anno. Originario di Casei Gerola, William Salice nel 1960 partì dal suo paese con una valigia legata con lo spago per raggiungere Alba, il paese della Ferrero. Livi rimase per 46 anni. Entrato nella più grande azienda dolciaria con il ruolo di venditore, divenne presto uno dei più stretti collaboratori di Michele Ferrero, di fatto il suo braccio destro. I due lavorarono insieme a decine di progetti che cambiarono la vita quotidiana degli italiani e furono poi esportati in tutto il mondo. William Salice era stato, tra le tante invenzioni, il creatore dei Pocket Coffee, ma l'opera, per cui è principalmente ricordato, è l'ovetto Kinder. Ideato da Michele Ferrero all'inizio degli anni settanta, fu realizzato praticamente proprio da William Salice. L'abbinata di dolce e sorpresa, un'idea rivoluzionaria per quei tempi e che ancora oggi rappresenta un prodotto unico. Raccontando la nascita dell'ovetto Kinder, Salice spiegò che l'intenzione di Ferrero era quella di trasferire Sorriso Pasquale a tutto l'anno. Un piccolo sorriso che i genitori potessero donare ogni volta che avessero voluto al proprio figlio. Il tutto in un'epoca in cui non esistevano ancora i negozi di giocattoli. Nuove, divertenti, spettacolari, le mie sorprese con la banda Disney! Una sorpresa su cinque! Una sorpresa su cinque! L'ovetto Kinder fu poi esportato, come tanti altri prodotti della Ferrero a cui Salice contribuìa a dare vita in tutto il mondo. Nel 2007, a requisiti per la pensione ampiamente maturati, Salice decise di lasciare l'azienda. Prese la sua liquidazione e la investì in una fondazione dal nome Color Your Life. La base fu collocata nel Savonese, dove Salice si era nel frattempo trasferito, ma i legami con Impavese rimangono, a cominciare dalla direzione affidata alla professoressa Renata Crotti. Spirito della fondazione è quello di aiutare i giovani studenti a trovare il loro talento. William Salice ha girato le scuole di tutta Italia, qui lo vediamo al liceo Volta di Pavia, cercando i ragazzi più motivati per fargli vivere un'esperienza di qualche giorno a stretto contatto con grandi professionisti del mondo dell'industria e della ricerca, in modo che potessero scoprire dove avrebbero potuto esprimere al meglio le loro qualità. Sono William Salice, ho lasciato la Ferrero e ho deciso di creare una fondazione. In Ferrero ho lavorato 46 anni, di cui 42 vicino a Michele Ferrero. Lasciandola Ferrero ho deciso di creare una fondazione non profita per restituire ai giovani quanto io l'ho ricevuto dalla vita. Non conta da dove vieni, ma quello che vuoi diventare.